blizzard il 20 aprile 2020 ha fatto venire fuori nel roster di overwatch il 32esimo eroe ragazzi noi stiamo già aspettando overwatch 2 e blizzard è ancora qui a supportarci ancora qui a darci nuovi eroi e come si chiama questa eroina ragazzi lei è un attaccante lei non è facilissima da usare perché ha due stelle su tre lei è un robot dotato di intelligenza artificiale adattiva sufficientemente versatile e dotati di grande grandissimo potere alcuni di voi potrebbero scambiarla con una farra in realtà non ha niente a che fare con quest'ultima ma essenzialmente ecco questo è il nome del 32esimo eroe e un personaggio dalle caratteristiche familiari ma molto difficile da fare entrare in un gameplay ma una volta che si studia una volta che si sanno le sue abilità tutto risulta molto più semplice insomma ragazzi benvenuti in questa nuova guida qui su sport itapish su questa eroina ragazzi diremo tanto diremo dal suo fuoco primario al fuoco secondario al volo alle sue abilità all'incredibile altimente che si chiama duplicazione ma voglio partire dalla passiva che è planata ebbene sì ragazzi semplice lineare chiara circoncisa ecco può planare durante la caduta perché essenzialmente la signorina grazie a una delle sue abilità che si chiama volo in grado di librarsi in alto nel cielo state ben attenti passiva questa planata assomiglia molto a quella di mercy e volo non assomiglia però a quella di fara che magari ha il carburante e riesce in qualche maniera a gestirsi ok riesce a tenere la posizione bella alta volo ragazzi è qualcosa di diverso volo parte e poi volo vi farà planare per cui non pensate di utilizzare planata per stazionare in aria non pensate di utilizzare volo per fare gli stessi identici attacchi di fara non pensate che questo personaggio sia identico appunto a fara perché per quanto riguarda potenza per quanto riguarda abilità non ha niente a che fare con quest'ultima ed è una cosa molto importante ed è anche uno degli errori più comuni che andate a commettere con il 32esimo eroe di overwatch ma andiamo avanti e iniziamo a sviluppare un attimino come colpisce questa eroina colpo triplo ecco spara tre colpi contemporaneamente seguendo uno schema triangolare ecco ragazzi è difficile non è difficile da capire ok lo vedete dalle immagini lo vedete quando colpiscono ma questo colpo triangolare in qualche modo non vi farà colpire perfettamente o capire meglio perfettamente dove andrà il colpo ok quello che vi consiglio io è di colpire subito sotto più o meno i piedi del vostro avversario in questa maniera ragazzi riuscirete ad avere la maggior probabilità di colpire tutto il personaggio perché comunque queste piccole esplosioni ragazzi anche se sono estremamente estremamente meno potenti rispetto al fuoco primario di fara comunque fanno danno durante questa piccola esplosione ecco io vi do il consiglio essenzialmente di colpire in pieno torace non puntate a fare magari gli headshot e cercate magari di colpire un po verso i piedi del vostro avversario questo è davvero molto utile e lo dico ragazzi anche se sono sicuro che molti di voi mi stanno per insultare nei commenti e dire eh ma il colpo è triple se lo spiro nei se lo sparo scusate nel nel terreno questo non esplode sì è vero ma essenzialmente era per darvi poi l'input sul fuoco secondario che si chiama appunto bombe adesive ecco lascia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo ecco perché vi dicevo di puntare verso i piedi e il terreno se puntate verso i piedi allora puntate verso il colpo triplo e sicuramente uno o due colpi di questa tripletta entreranno nel vostro avversario ma in l'altro caso vi permetterà comunque di mettere sul terreno delle bombe adesive queste bombe adesive ragazzi sono numerose potete piazzarne davvero tante sono utili per colpire un gran numero di persone tutto su un punto ristretto ecco ragazzi dovete imparare a switchare tasto destro tasto sinistro colpo triplo bombe adesive se voi puntate più verso il terreno più verso i piedi del vostro avversario questo switch in qualche maniera è molto più veloce è molto più rapido se voi invece cercate di puntare alla testa del vostro avversario il colpo triplo potrebbe non entrare del trutto e anche le bombe adesive se sparate là in alto ragazzi non tutte entreranno a segno è chiaro quello che sto cercando di dirvi voglio darvi la possibilità di colpire più percentuale possibili del vostro avversario dato che colpo triplo non è molto forte dovete switchare velocemente da appunto l'arma il fuoco principale il fuoco secondario che si chiama bombe adesive per poi arrivare ragazzi a raggio folgorante queste tre tecniche devono essere utilizzate in tandem tutte insieme quando siete in volo ed è quindi molto difficile prendere la mira librarsi in volo ragazzi e continuarsi a muovere a destra e sinistra per non essere un bersaglio troppo facile da colpire richiede mira richiede strategia richiede anche un po di percezione e soprattutto capire dove il nemico sta per andare no quindi una prediction una predizione un'analisi veloce di tutto quello che sta succedendo in quel preciso momento e della cosa più difficile in assoluto da fare su qualsiasi videogioco se poi ci mettiamo un videogioco come overwatch dove pure la nostra ecco ragazzi sfortunatamente non è dotata di questi grandissimi hp e quindi morirà facilmente in pochi colpi allora io dico muovetevi a destra e sinistra state sempre in volo se state fermi se state sul terreno e non utilizzate al meglio lo switch tra queste tre abilità che vi ho appena elencato allora la morte giungerà molto velocemente per voi ed ora eccoci a un'altra abilità forse l'unica altra abilità che dovete imparare a utilizzare dato che l'altra essenzialmente è volo e sto parlando di raggio focalizzante vi ho già detto il trittico perfetto e colpo triplo bombe adesive che il fuoco primario il fuoco secondario di eco più raggio focalizzante e qui ragazzi è semplice la nostra eco emette un raggio per alcuni secondi e ragazzi questo raggio ve lo devo dire non è così forte come potrebbe essere quello di simmetra che più colpisce il bersaglio e più fa danni no questo fa sempre lo stesso numero di danni però state ben attenti cercate di focalizzare il vostro attacco soprattutto con i bersagli che hanno metà salute perché perché c'è un bonus per voi appunto ecco la vera chiave dell'utilizzo di eco eco non è quella che attacca di primo acchitto come farebbe fara per fare ingenti danni eco non è dotata di questa gran mobilità come appunto lo è fara non è dotata di una grande potenza di fuoco e soprattutto muore con due due proprio tiri facili facili quello che dovete fare è però dare una mano a finire i vostri avversari voi siete uno spazzino un ripulitore quello che magari va a cercare il nemico che si è allontanato dal gruppo e di qui ragazzi che si capisce che genere di attaccante diventerete di per questo ragazzi che vi dico che eco è difficile due stelline su tre ed essenzialmente anche in me con nella pro league non è così tanto usato perché molte persone soprattutto nelle leghe basse inizia a dire no ragazzi non non faccio tanti danni ed effettivamente è vero no ragazzi muoio facilmente ed effettivamente è vero no ragazzi non sono neanche lontanamente come farà per cui meglio utilizzare lei e non lo capisco perfettamente ragazzi ma nel team quelli belli quelli oliati quelli che hanno diciamo una loro strategia e effettivamente andare in giro e cercare di colpire gli ultimi rimasugli di un fight cercare quindi di finire l'avversario e lasciare i tank quindi che si occupino essenzialmente di difendere oppure attaccare i nemici a piena vita e questo è il vostro ruolo forse non riuscirete a fare praticamente quasi niente in medaglie se non qualche argento e qualche bronzo ma il più importante è fare ori fare kill e fare danni oppure riuscire a portare la squadra alla vittoria indubbiamente ragazzi la risposta è chiara a tutti no vincere con bronzi con ori con argenti dal punto di vista delle nostre statistiche questo è poco importante comunque noi facciamo parte del team questo è il nostro ruolo e noi lo facciamo bene e senza lamentarci e per ultimo ma non ultimo ovviamente dobbiamo dare uno sguardo anche alla ultimate della nostra eco che si chiama duplicazione e qui arrivano i veri cavolosissimi amari perché duplicazione essenzialmente ci permette di diventare una coppia di un eroe nemico bersaglio ottenendo le sue stesse abilità e i suoi stessi hp cioè non so se ci intendiamo ma saper utilizzare al meglio qualsiasi personaggio noi decidiamo di duplicare non è una cosa che si può imparare dall'oggi al domani sono 31 personaggi che dobbiamo imparare a conoscere per cui in quella determinata situazione quale personaggio prendiamo prendiamo il reynard prendiamo il tank prendiamo magari lanzo no ragazzi essenzialmente ogni situazione è diversa e proprio per questo ragazzi vi voglio dire ecco è un personaggio difficilissimo non da due stelle su tre secondo me ma forse anche quattro stelle su tre perché indubbiamente abbiamo visto di come le sue abilità sebbene il colpo triplo le bombe adesive il volo il raggio focalizzante siano in qualche modo molto semplici da descrivere sono estremamente difficili poi da utilizzare e vi ho già dato anche qualche piccolo trucchino qui quest'oggi obiettivamente poi la nostra eco è un personaggio debolissimo cioè stiamo davanti ad un attaccante a un dps con solamente 200 punti di hp la maggior parte degli attaccanti è vero a questo ammontare di vita ma essenzialmente lei è forse quella più facile da colpire sì sì a diciamo una grandezza del corpo abbastanza longilinea quindi in qualche modo può anche passare inosservata ma quando vedete qualcosa svolazzare in aria ok e questa in qualche modo non si muove molto bene come farebbe una fara ecco che voi diventate una mosca da colpire una mosca che molti attaccanti come mecri come soldato 76 o come hanzo possono colpire con estrema incredibile facilità certo la mobilità di eco essenzialmente è il suo punto forte ma se avete avuto molta esperienza con fare e pensate di poter utilizzare eco nello stesso identico modo mi dispiace toglietevelo dalla testa è un errore davvero molto molto grande che commetterete io vi sconsiglierei appunto di evitare qualsiasi scontro uno v uno il vostro personaggio non è fatto per quello il vostro personaggio non è forte il vostro personaggio ha un trittico di abilità che sì se siete molto agili riuscirete a fargliela ok ma se non avete ancora masterato adeguatamente la planata e il volo probabilmente nell'uno v uno morirete negli ambienti chiusi neanche a dirlo scappate ragazzi eviterei quindi in maniera molto puntigliosa tutti quegli eroi che sparano eviterei gli eco avversari eviterei in maniera ancora più attenta i tank ecco mi concentrerei su chi scappa mi concentrerei su chi ha meno vita o metà dei suoi hp ricordatevi quindi che la nostra eco non è che sia efficace a distanza non è una fara non è una widow maker no diciamo che nella media distanza da il suo meglio appunto perché il colpo triplo ragazzi non ha questa gran precisione il colpo a bomba ragazzi non è che puoi concentrare le sei bombe che lanci in un unico punto no vengono lanciate proprio in una linea una dopo l'altro per cui il colpo che infliggerete a un solo avversario non sarà mai totale ci insomma su tutte e sei le queste esplosioni che avvengono ok e anche per quanto riguarda il raggio diciamo che dovete focalizzare il colpo quando siete in tandem essenzialmente con il vostro con la vostra squadra detta in parole povere ragazzi ecco nell'uno v1 no ecco che pusha no ecco che fa come fara no ecco che duplica il suo potenziale si state ben attenti ragazzi a come lo fate chi lo fate questo vuol dire che se davanti a voi avete un tracer per fare un esempio è un un reynard ecco facciamo questi due esempi io punterei più su una tracer perché perché tracer ha a disposizione quelle due tre abilità sull'uno v1 che sono molto forti reynard quelle abilità si sull'attacco si sullo scudo ma bisogna sempre analizzare la situazione ragazzi e come si fa è difficilissimo trovare la scelta giusta è difficilissimo cercare di collaborare con la propria squadra ancora più difficile insomma ecco a buone potenzialità deve essere ancora sviluppata sicuramente anche blizzard ragazzi ci sta lavorando tanto ricordatevi che questo personaggio è presente nel roster di overwatch solamente da meno di un anno per cui c'è tanto da lavorare c'è tanto da modificare ma soprattutto ci sono tante strategie che dobbiamo andare a scoprire su questo incredibile personaggio e naturalmente se volete scoprire gli orrori da non fare se volete scoprire altri trucchi altri consigli su overwatch beh io vi invito a lasciare un like e a iscrivervi per non perdervi questi e i prossimi video di sport ita passion ciao